Natalia Cange, la responsabile dell'archivio dei diari di Pieve Santor Stefano, tracciamo un bilancio di questo anno 2010. Un anno impegnativo, senz'altro il 2010, perché ci ha visto impegnati su vari fronti, come spesso accade proprio a questa fondazione. Abbiamo lavorato sulla nostra attività, quella che è l'attività istituzionale, quindi la raccolta della memoria, e abbiamo lavorato sul premio, che è un appuntamento che da 27 anni, quello che faremo a settembre sarà la 27esima edizione. Abbiamo fatto un programma del premio molto interculturale, ospitando un progetto internazionale che chiudeva proprio a Pieve Santo Stefano, il progetto Europa Memories, che ha visto proprio il coinvolgimento di vari paesi europei che si sono dati appuntamento a Pieve e abbiamo fatto all'interno del premio questo finale proprio di questo progetto, che poi si è chiuso anche con una pubblicazione. E abbiamo ospitato sempre un progetto che è Valtiberino, diciamo così, come origine, che è Voci Migranti, però in realtà ha proprio una sua dimensione che va al di là della dimensione locale, perché accoglie appunto la voce di persone che normalmente non hanno voce. Abbiamo realizzato un documentario che si chiama May Mag, proprio perché è dono ed è scambio di doni, un po' quella che poi è la filosofia dell'archivio, cioè le persone che ci danno la loro vita, la loro esperienza, e noi a volte li traduciamo in dei libri, li traduciamo comunque in incontri pubblici, nella possibilità proprio che diamo a queste persone di raccontare la propria vita e la propria esperienza. Per il futuro, l'archivio, per il 2011, ma io mi spingerei anche al 2012, ha un progetto molto ambizioso, che è quello della digitalizzazione del suo patrimonio. Già al premio alla 26esima edizione abbiamo fatto un'anteprima, digitalizzando il lenzuolo di Clelia Marchi, che è proprio il documento simbolo dell'archivio, perché è un diario scritto sul lenzuolo, l'abbiamo digitalizzato, e l'abbiamo reso navigabile grazie a un tavolo touchscreen, in modo tale che le persone si avvicinassero proprio a questa scrittura, alla quale non ci si può avvicinare, diciamo perché il lenzuolo è un pezzo, un documento protetto, quindi si può ben capire come tutte le opere d'arti naturalmente ha bisogno di questo tipo di protezione. Quindi 2011, direi anche 2012, questo progetto della digitalizzazione, che naturalmente avrà una prima fase, che è quella di rendere in formato digitale i documenti, per poi renderli probabilmente fruibili attraverso una piattaforma internet a un pubblico molto più ampio di studiosi, di ricercatori. E poi l'attività editoriale, che è sempre il fiore all'occhiello dell'archivio. Nel 2011, proprio all'inizio, usciremo con due volumi, uno che ricorda proprio la lira nel nostro vissuto, proprio dal fine dell'Ottocento, inizio del Novecento ad oggi, ed un volume, diciamo un po' d'obbligo, che è quello sull'Unità d'Italia. Dico d'obbligo perché ormai tutti hanno fatto qualcosa in questo senso, ma noi lo facciamo in un modo molto ambizioso, raccontando l'Unità d'Italia attraverso i diari e le memorie dell'archivio. Una curiosità, quanti volumi raccoglie questo archivio? Allo stato attuale saranno intorno ai 6.400. Dico saranno perché poi arrivano quotidianamente. Ne arrivano 100 per il concorso, ma già quest'anno abbiamo dovuto chiudere ai primi di dicembre perché avevamo già raggiunto questo limite. Perché lo dobbiamo mettere un limite dal momento che poi c'è una commissione di lettura che da ottobre fino a giugno legge questi 100 scritti, vogliamo leggerli nel modo migliore possibile. Da questi 100 ne vengono scelti 8 e poi viene scelto il vincitore, che poi, diciamo, i vincitori, quelli che poi sono i protagonisti del premio. In più arrivano dei testi che non sono per il concorso, ma che le persone desiderano inviare a noi proprio perché vogliono lasciare una traccia della loro vita qui. E quindi il numero è sempre molto importante. Si parla dalle 150 a 200 unità all'anno, insomma. Volumi che provengono da tutte le parti del mondo, ci sembra di capire. Da tutta Italia, perché una delle caratteristiche del regolamento è quella che debbano essere scritti in lingua italiana. Quindi ci sono autori anche stranieri, però lo scritto deve essere in lingua italiana. Quindi l'Italia è rappresentata in tutte le sue parti, in tutte le sue regioni. Naturalmente ci sono regioni che numericamente sono più rappresentate. Ovviamente la Toscana, però mi viene in mente la Lombardia, ma anche la Sicilia. Insomma, è piuttosto vario il panorama italiano in questo senso. E naturalmente l'archivio ci lascia sempre la possibilità proprio di tracciare un percorso nella nostra storia fin dall'Ottocento, come ricordavo con il volume sull'unità d'Italia, ma soprattutto quella che è la storia dei nostri giorni, quindi con l'individualità delle persone che non hanno più alle spalle magari i grossi traumi che hanno caratterizzato la scrittura dai primi del Novecento fino agli anni Cinquanta, perché allora c'erano le guerre, c'erano i fenomeni migratori. Oggi l'attenzione si è più spostata sull'individuo, quindi persone che si misurano con la scrittura. La scrittura diventa un modo per curarsi a volte, ma diventa anche un modo proprio per stabilire un rapporto con se stesso che forse in altre situazioni non si riesce ad avere.